Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca, partendo da Trapani, si parla di appalti truccati. È stato arrestato un deputato regionale, ma per tutti i dettagli. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti del deputato regionale Dario Safina, già assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, del direttore generale e del direttore amministrativo della società Trapani Servizi S.p.A., esercente l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti nel Capoluogo, entrambi destinatari del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, dell'Energy Manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell'illuminazione pubblica, destinatario del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno. Sono indagati, a vario titolo, dei reati di turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di notizie d'ufficio. Al centro dell'indagine, condotta dai carabinieri sotto la direzione della Procura di Trapani, figurerebbe l'attività di dirigenti e collaboratori della società Trapani Servizi S.p.A., che accordatisi preventivamente fra di loro avrebbero turbato le due procedure concursuali a evidenza pubblica del 2020 e 2021 per la selezione e designazione del Direttore Generale della citata società, inserendovi requisiti strettamente correlati ai titoli e alle esperienze professionali dell'amministratore unico uscente, condizionandone l'esito in suo favore e avrebbero adottato atti contrari ai doveri d'ufficio nelle nomine di collaboratore esterno e direttore tecnico della medesima società. Il deputato regionale Dario Safina, nel precedente incarico di Assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, accordatosi preventivamente con un imprenditore 45enne di Messina, manager ed energy manager per la Sicilia di un'importante società operante nel settore della pubblica illuminazione, avrebbe turbato la procedura a evidenza pubblica di Project Financing per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, informandolo preventivamente sulle tempistiche di pubblicazione, sui contenuti e l'importo di base del bando, consentendo quindi alla citata società di ottenere l'aggiudicazione della procedura con la presentazione di un'offerta congrua rispetto a quelle degli altri concorrenti. Avrebbe inoltre promesso l'affidamento alla citata società al di fuori di ogni procedura concorsuale a evidenza pubblica dei lavori di rifacimento dei sistemi di illuminazione degli impianti sportivi denominati Campo Aula e Campo Coni. Omicidio a Enna, un imprenditore ucciso a coltellate, è stato arrestato il figlio. Un imprenditore edile, Gaetano Menzo, 58 anni, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione nel centro storico di Enna. A fare la macabra scoperta sono stati due collaboratori dell'imprenditore che non vedendolo arrivare al lavoro sono andati a casa del titolare dell'azienda. Il cadavere è stato scoperto da un fratello della vittima che lavora nella stessa impresa edile di famiglia. Menzo era impegnato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo. La polizia, dopo aver cercato per ora il figlio della vittima, Matteo Menzo, di 22 anni, visto allontanarsi da casa visibilmente turbato poco prima del ritrovamento, lo ha rintracciato e arrestato. Lo ha deciso il PM, Salvatore Interlandi. Il giovane era nei pressi della questura pronto a costituirsi alla squadra mobile di Enna. Menzo sarebbe stato agganciato dagli agenti che lo avrebbero convinto ad andare in caserma. Ancora furbetti del reddito di cittadinanza. Sono ben 73 quelli beccati dalla Guardia di Finanza tra Gela e Niscemi. La Guardia di Finanza ha denunciato 73 persone residenti principalmente nei comuni di Gela e Niscemi che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I controlli hanno permesso di rilevare diverse irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all'Inps. In particolare, tra i soggetti denunciati alla procura di Gela, risultano extracomunitari privi del requisito di permanenza minimo nel territorio dello Stato, cittadini dichiaratisi disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero e soggetti con precedenti penali anche in materia di criminalità organizzata. Le indagini svolte, che hanno riguardato il monitoraggio di somme erogate per oltre 874 mila euro, si sono concluse con la quantificazione di somme indebitamente percepite per un totale di circa mezzo milione di euro e la relativa segnalazione all'Istituto Previdenziale che ha provveduto al blocco di ulteriori importi indebitamente richiesti per circa 400 mila euro. Importante operazione antidroga a Catania. I carabinieri hanno sgominato tre piazze di spaccio nel popoloso quartiere di Librino. Sono 14 le persone indagate. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Catania contro un gruppo accusato di gestire tre piazze di spaccio di cocaina, crack e marijuana nel popoloso quartiere di Librino. Oltre 300 militari dell'arma, con il supporto dei reparti specializzati, hanno eseguito nel territorio del capoluogo etneo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai GIP del Tribunale Ordinario e per i minorenni di Catania, a carico di 14 indagati, tra cui un soggetto all'epoca dei fatti minorenne, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e invasione di terreni o edifici. Secondo l'accusa, il giro d'affari avrebbe permesso al gruppo incassi per diverse migliaia di euro al giorno, provento dello spaccio di droga ad alcune centinaia di clienti. Tra i servizi offerti dall'associazione, anche la disponibilità di un intero appartamento dove i clienti potevano drogarsi in tutta sicurezza al riparo da occhi indiscreti. Fantasioso il linguaggio in codice utilizzato dai pusher per indicare le varie tipologie di droga, pacchetto di sigarette o cibo per cani per la marijuana. utilizzato un linguaggio criptico come una birra, mezza birra o una lampadina da 40 watt per indicare la quantità di cocaina. I carabinieri hanno anche eseguito il sequestro preventivo di cinque appartamenti di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari del complesso edilizio di Viale Nitta 12, ritenuti utilizzati come base logistica per l'attività illecita e in parte occupati abusivamente. Al centro dell'operazione, denominata Sotto Sopra, indagini effettuate dal settembre del 2021 a ottobre del 2022 dai militari dell'arma della Compagnia Fontana Rossa, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Spaccio di sostanze stupefacenti anche a Gela sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto un pusher. Era in possesso di quasi un chilo di cocaina, ma anche di un fucile a canne mozze e diverse munizioni. Vediamo il servizio. La squadra mobile e il commissariato di Gela hanno tratto in arresto un uomo per detenzione di quasi un chilo di cocaina, un fucile con canne mozzate e munizioni di varia tipologia. Gli uffici investigativi della Polizia di Stato, nell'ambito dei continui servizi destinati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno appreso di uno strano via vai da un garage sito a Gela. Nel corso del servizio di appostamento, i poliziotti hanno fermato un pregiudicato che stava accedendo all'interno del locale, procedendo alla perquisizione personale dello stesso. All'interno di una tasca dei pantaloni, gli agenti gli hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina, procedendo poi a perquisire anche il garage. All'esito dell'atto di polizia giudiziaria, in vari anfratti dell'immobile, sono stati rinvenuti altri involucri contenenti polvere bianca e sequestrato anche un fucile con le canne mozzate, elemento che denota una particolare pericolosità dell'arma in quanto ne facilita l'occultamento e ne aumenta la potenzialità offensiva. Oltre all'arma, sono state rinvenute numerose munizioni di vario calibro, segno di una particolare pericolosità dell'indagato. Presso gli uffici del commissariato di Gela, la polizia scientifica ha analizzato la sostanza polverosa di colore bianco, accertando che si trattava di cocaina per un peso complessivo di quasi un chilo, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato migliaia di euro. Informata la Procura della Repubblica di Gela, il pubblico ministero ha disposto che l'indagato venisse condotto in carcere. Il giudice, per le indagini preliminari, letta la richiesta della Procura della Repubblica di Gela di convalida e applicazione della misura cautelare in carcere, ha convalidato l'arresto operato dalla Polizia di Stato e disposto la misura richiesta dal pubblico ministero. Un doppio furto commesso a Pozzallo è costato l'arresto a un 37enne di Rosolini che è stato poi condotto in carcere. Vediamo il servizio. A Rosolini i carabinieri di Pozzallo, coadiuvati dai colleghi della locale stazione, hanno proceduto a dare esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un 37enne residente proprio a Rosolini, disoccupato e con precedenti di polizia. I militari dell'arma, grazie alla loro approfondita attività di indagine, hanno potuto accertare che l'uomo, nel corso dell'anno appena trascorso, si era reso responsabile di due episodi di furto qualificati dagli inquirenti con l'ipotesi dell'aggravante. Nello specifico, le azioni delittuose si sono consumate la prima, lo scorso agosto, consistita nella sottrazione di un motociclo in sosta a Pozzallo e la seconda verificatasi nel mese di settembre scorso con il furto con strappo di un borsellino dalle mani di una persona anziana contenente denaro contante ed effetti personali. L'arrestato, dopo le formalità espletate presso la sede della Compagnia Carabinieri di Modica, è stato condotto al carcere di Ragusa. In vista del consolidamento di Monte Pellegrino, siamo quindi a Palermo, sarà attivo un monitoraggio ambientale. Vediamo di che si tratta. La Regione siciliana, attraverso l'Ufficio per il Contrasto al dissesto idrogeologico guidato dal Governatore Renato Schifani, ha pianificato un servizio di monitoraggio ambientale su tutti e quattro i versanti di Monte Pellegrino a Palermo, interessati dalle opere di messa in sicurezza. Attraverso questo sistema ci si assicurerà che i lavori di consolidamento delle pareti rocciose sul promontorio che sovrasta la città, attualmente in fase di aggiudicazione, saranno svolti nel pieno rispetto dell'ecosistema esistente, in modo da non interferire minimamente sulla vita delle specie animali e vegetali. Per il cosiddetto lotto D della riserva, che comprende i pendii che dominano la borgata di Vergine Maria, le verifiche per la salvaguardia dell'habitat naturale sono state affidate al raggruppamento di professionisti che fa capo alla Dream Italia di Arezzo. La gara, espletata dagli uffici diretti da Maurizio Croce, è stata aggiudicata per un importo di 407 mila euro. Il monitoraggio, che servirà a individuare le varie aree di nidificazione e quelle in cui vivono piante protette, sarà eseguito in maniera preventiva ma anche durante l'esecuzione dei lavori e alla loro conclusione. Dal prossimo anno scolastico, il liceo Made in Italy in 17 istituti siciliani. Sono 17 in Sicilia le scuole superiori che attiveranno il liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo di studi previsto dalla legge 206 del 27 dicembre 2023, con l'obiettivo di sviluppare competenze nel campo della tutela e della promozione delle eccellenze italiane in diversi settori produttivi, attraverso lo studio approfondito del sistema industriale del nostro Paese, oltre che delle materie giuridiche, economiche, tecnologiche e delle lingue straniere. L'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l'elenco degli istituti che dal prossimo anno scolastico, 2024-2025, daranno il via a questo percorso didattico innovativo. I tempi di attivazione del liceo del Made in Italy, ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, sono stati molto stretti. Eppure il dato siciliano mi sembra incoraggiante e indicativo di una grande capacità di progettazione e di voglia di innovazione. Le potenzialità del Made in Italy sono notevoli e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il futuro della scuola e dei nostri giovani, ha concluso l'assessore. In particolare, gli istituti che hanno aderito sono tre nell'Agrigentino, due nel Nisseno, tre nel Catanese, tre nel Messinese, due nel Siracusano, due nel Trapanese e infine uno in provincia di Palermo e uno a Ragusa. L'attivazione del nuovo liceo è subordinata alla sussistenza di requisiti, quali il numero degli iscritti, la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di locali idonei. In caso contrario, la decorrenza del nuovo percorso didattico sarà posticipata di un anno. Rifambiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie a tutti.